Antonio e Cristiano Di Pietro hanno incontrato i rappresentanti sindacali del comparto sicurezza per fare il punto sulla grave situazione che da tempo assilla il settore. Mancanza di risorse umane e finanziarie, mezzi inadeguati, stipendi bloccati da anni. Presidente Di Pietro, il tema della sicurezza coinvolge cittadini e ovviamente operatori della sicurezza. Oggi abbiamo voluto riunire tutte le sigle sindacali delle forze di polizia, noi dell'Italia dei Valori in Molise, perché ci rendiamo contro che tra il dire e il fare c'è di mezzo, non il mare, un mare di guai e di soldi che servono. Perché oggi? Perché come sapete il questore prima ci ha lasciato, ci ha lasciato, è stato trasferito, il nuovo questore è arrivato e a lui facciamo i migliori auguri e però dobbiamo anche far sapere ai cittadini che la sicurezza si fa con i mezzi, col personale, con le strutture e in Molise ce n'è bisogno tanto di sicurezza perché come avete visto era un'oasi di pace e ogni giorno ci sta accoltellamenti, furti, rapine, litigie e quant'altro. E allora come lo risolve tutto questo? Innanzitutto chiedendo quel che chiedono le forze di polizia, non so se lo sapete ma le forze di polizia sono rimaste al tetto di stipendio di tanti anni fa, passa il tempo, il potere d'acquisto è sempre meno ma loro sono rimaste a 10, a 15, a 20 anni fa. Il risultato è che non hanno soldi per mangiare e devono garantire la sicurezza ai cittadini, non hanno gli strumenti, non hanno neanche la benzina per correre a presa ai delinquenti. E allora quel che noi abbiamo deciso oggi di fare è di chiedere e formalmente chiederemo e per iscritto e a voce al Ministro dell'Interno di mantenere il patto che si è impegnato quanto ha assunto il suo Ministero e quando il Governo ha assunto il suo Ministero. Cioè vale a dire di procedere immediatamente a dare quanto spetta di stipendio alle forze di polizia e dare ad essi gli strumenti necessari. Antonio Di Pietro ha assunto precisi impegni e si è rivolto a modo suo al Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Caro Matteo Renzi, c'è un solo modo per far funzionare il nostro Paese, che tutti rispettano le leggi. Quindi invece di stare a perdere tempo per modificare la Costituzione, che non serve a niente se tutti i giorni i cittadini non hanno i soldi sufficienti per campare, invece di pagare all'Europa 250 euro al giorno per ogni detenuto, quei soldi utilizziamo per fare qualche carcere in più, Matteo, che stanno meglio ma stanno dentro i delinquenti.